Notato dai carabinieri in via Lenitta a Librino mentre cedeva delle bustine ad acquirenti occasionali. Bloccato e perquisito è stato trovato in possesso di 50 grammi di marijuana già suddivise in dosi e la somma contante è di 65 euro ritenuta a provento dell'attività di spaccio. A finire in manette il ventenne catanese Giuseppe Agatino Mario Riela. L'arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.